Egnuanni, la prima giornata di variazione di bilancio, la maggioranza, anzi l'opposizione si tiene abbastanza soddisfatta su diversi post per quel che riguarda questa variazione. Egnuanni, allora come la vede che comunque da quando era l'opposizione in Italia dei Valori era comunque una persona moderata? Spero di essere moderati nel senso buono, nel senso che non abbiamo motivi di fare rivoluzioni. No, questo è un assestamento anomalo, come tutti gli assestamenti della prima anno di legislatura, perché di fatto si interviene la nuova maggioranza mettendo a punto qualcosa che riguarda il nome di bilancio della precedente maggioranza. Quindi qui siamo in una ristrettezza totale di risorse, la nuova maggioranza si è data subito a una disciplina coerente con gli impegni elettorali, nessun apposto puntuale. L'amministrazione regionale deve pensare a tutti, deve pensare ai soggetti complessi che sono l'economia, dei cittadini, dei loro bisogni, al sistema degli enti locali, non può più pensare alle singole esigenze della singola associazione, del singolo consigliere, quindi questa è una norma di assestamento con poche risorse ma usate nel modo migliore possibile.